Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. Prudenza per pioggia su gran parte della Toscana raccomandiamo di moderare la velocità alla guida. In FIPRI per lavori troviamo rallentamenti verso Firenze tra Empoli Est e Ginestra, possibili disagi per lo stesso motivo anche in carreggiata opposta. Ricordiamo che per i cantieri in corso tra Montelupo ed Empoli Est è previsto il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Firenze con chiusura della carreggiata in direzione Mare. Ricordiamo inoltre la chiusura dello svincolo di Montelupo in direzione Mare sia in ingresso che in uscita in direzione Firenze solo in ingresso FIPRI. Prima di salutarci per il traffico navale il traghetto delle 17.35 Piombino Cabo, quest'oggi è cancellato. Puoi aversi in Toscana Info e un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.